E questa cos'è? È casa mia. Casa? Un armadio. Come? Ricordati Enrico che la felicità è nelle piccole case. Cose, non case. Qui non c'entrano neanche due tazzini. No, no. Quelle ci sono entrate. Vede, la felicità è nelle piccole cose. Eh, qualità russa alla pazza. Ah, il caffè di casa. A proposito, qua dentro mi manca l'aria. E beh, così è un'altra cosa. Casa. Cosa? No, un'altra casa. Guardi, ci rinuncio. Guardi, ci rinuncio.